Un uomo di 21 anni originario della Guinea è stato arrestato ieri per lesioni, resistenza pubblico ufficiale e oltraggio. L'uomo si è volontariamente schiantato ad alta velocità e incontrata a Razzabia con l'auto di proprietà contro un muro a secco. Illeso dall'impatto, una volta sceso dall'auto totalmente distrutta, ha aggredito i quattro agenti della polizia locale di Modica prendendoli a calci e a pugni. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio ha aggredito persino la compagna con cui vive da diversi anni a Frigintini, strattonandole e facendola finire a terra. La causa dell'incontrollabile rabbia? Una lite avvenuta sul luogo di lavoro con un dipendente. L'uomo lavora nell'azienda di proprietà della compagna. Questo è quanto racconta proprio la compagna, il commissariato di polizia di Modica. Bloccato con non poche difficoltà è stato arrestato. Il veicolo è stato sequestrato perché sprovvisto di copertura assicurativa. Il ragazzo si è inoltre rifiutato di sottoporsi ad alcol test. La prognosi per gli agenti rimasti feriti è di 15 giorni. Si trova ora in carcere in attesa di giudizio.